Manzini sta tagliando verso l'interno, chiede palla, Donnetto l'ha visto, serve Bucinic che prova a dare una palla a centro, Simone Perrotta, 3-1, ancora una giornata di Bucinic. E poi come sono entrati in punta di piedi, me ne esco in punta di piedi perché è questo che c'è. Ancora a destro, Pietro Perfledri sale e prova a ricever palla, Perrotta, in destra di Perrotta, go! Siete uno, Roma due! Tutti da Simone Perrotta sotto il settore dei tifosi giallorossi, ha approfittato di una respinta corta della difesa della Siena, calciando con il destro, il pallone si è infilato esattamente lì, all'angolino basso, alla destra di Pegolo, è la Roma che va in vantaggio, è la Roma che va in vantaggio. I carabinieri che vengono da noi, ma è tutto a posto così. Siena 1-1, Roma 2, il gol di Simone Perrotta e siamo davvero contenti che a segnarlo sia stato lui. Simone Perrotta. E poi come sono entrati in punta di piedi, me ne esco in punta di piedi perché è questo che c'è. Salta Antonelli, dentro per Perrotta, limite dell'area di rigore, sponda a destra per Totti, lato corto dell'area di rigore. Nel prossimo verso Perrotta, Perrotta, Perrotta! Roma 3, Giano 1. Un grandissimo gol questo di Simone Perrotta che ha messo giù il pallone, alzando la testa, ha servito sul lato corto dell'area di rigore. Francesco Totti si è andato a buttare, catapultare, nel cuore dell'area di rigore. Arrivato puntualissimo su questo suggerimento di Simone Perrotta. Di Francesco Totti e Simone Perrotta la spinta dentro. Tanto abbiamo visto De Rossi complementarsi con Tinis per quello di invio, assurdo. Andiamo avanti. E il gol del 3-1 che chiude la partita, Perrotta! Un'azione dei campioni del mondo, cross di Totti e Perrotta sul primo palo micidiale, Roma 3, Genoa 1, con la Roma che vince la partita, però un divario troppo pesante per il Genoa. Implacabile Perrotta sul cross di Totti, un pallone spiovente, è arrivata a riceverlo in scivolata e lo ha spinto con il destro, con una conclusione secca che è finita sotto la traversa, non ha lasciato scampo al portiere del Genoa Frey. E poi come sono entrati in punta di piedi, me ne esco in punta di piedi. E poi come sono entrati in punta di piedi, me ne esco in punta di piedi.